Il Bitonto è Spugna d'Imperio e il San Ciro di Portici e si attesta minaccia a ridosso dei quartieri nobili della classifica del girone H di Serie D. Dopo il franco successo sul Francavilla in Sinni, mister Valeriano Roseto è intenzionato a firmare il bis e alza dietro la diga colella Pettano Cerino. In mezzo al campo sistema la corsa furente del piccolo grande Mariani accanto alla cheta regia di Capece, col titano Biason sempre più simile ad un tanghiero argentino col coltello invece della rosa tra i denti. Davanti il duo Palazzo Lattanzi. L'omologo Mattiacci si copre le spalle con Arpino e Donnarumma, Annappo e Vitiello affide il compito di manovrare in mediana, in avanti Honda a servire Prisco. Dopo neppure un battito di ciglia, Bitontini in vantaggio, Nocerino scodella da destra, dialogo fulminio fra Lattanzi e Palazzo e il nome Andriese Fredda Spina. Mole la reazione dei campani, al settimo Prisco di testa, contrato da Pett, senza affanno a guanta la sfera Zinfollino. Al venticinquesimo prove tecniche di gol per la mezzala sudamericana, che con una rasoiata dalla distanza cerca la Porta Azzurra, fuori di poco. Giro di lancette e benefico Mancino di Lattanzio, Spina rimedia in corner. A cinque dall'intervallo Biason esplode un bolide imparabile che si insacca nell'angolino destro. A due primi dallo scadere Schiavi incorna da angolo e sfera che sfila paurosamente fuori. Si riprende e già al secondo Palazzo suggerisce per Colella che spara alto. Minuto dodici, assist lucente di Biason per Lattanzio e cuoio che sdrucciola fuori in un respiro. Al quarto d'ora, taglio eccelso di Colella sul servizio di Lattanzio, botta ravvicinata e riflesso vincente di Spina. Pallida ancora la rabbia dei padroni di casa con una testata innocua di scala imbeccato dal neointrattore elefante. Alla mezz'ora, però, robusta volè di Prisco nel cuore dell'area, Zinfollino si inarca e griffa un autentico prodigio. Slalom trafelato di Arpino al trentasettesimo e uscita planata dell'estremo ospite. Al tramonto del match, pretenziose conclusione dei trenta metri di Nacci. In pieno recupero, fuga di Tedesco sulla corsia di sinistra e collo sull'esterno della rete. Trionfano dunque i leoncelli, non prima di essere tornati sul prato fasullo porticese per rigiocare soltanto l'ultimo minuto, obbliato dal forse frettoloso Gambuzzi di Reggio Emilia. E si preparano così al derby da sempre affascinante col Cerignola di domenica prossima.